Classifica diversa ma momenti relativamente simili. Acqua e Sapone e San Buceto vogliono tornare alla vittoria per farlo. Del Gallo e Del Zotti si affidano alle loro migliori armi. Petito e Trento, Lalli e Nardone. Fischia, Barmasse della sezione di Aosta in un pomeriggio soleggiato e godibile. Apre la cronaca la punizione di Alessandro Maiorani che sibila fuori di poco. Dedeo immobile nella circostanza. La risposta ospite è sempre sugli sviluppi di una punizione schema che chiama Nardone al cross. Scamporesi prima di tutti, piedi monte a negargli lo 0-1 con una leggera ma evidente deviazione. Parte centrale avara di emozioni. Trento alla mezz'ora mette il turbo, va da solo ma Cestina da buona posizione. Sfonda sulla sinistra il Sambuceto, Camperchioli al centro, Ricci nella sua porta per anticipare Selva Allegra. 1-0 Sambuceto che con gli inserimenti da dietro mette in chiara difficoltà gli avversari. Ad onor del vero non sarà un pomeriggio semplice nemmeno per la difesa viola. Trento lascia sul posto Rosati e apparecchia perpetito. 1-1 e classica. Rete dell'ex per l'attaccante verde-oro che scalda i motori in vista di una ripresa bellissima. A partire forte è la squadra di Del Gallo. Evangelista sa sempre come inserirsi. Prova anche la sforbiciata. Il classe 99 palla fuori. Dall'altra parte il Sambuceto a memoria con una verticalizzazione fantastica per Selva Allegra. Face to face con Palena. Freddato. 1-2 e sembra essere tutto in discesa per la squadra di Del Zotti. Ma l'acqua e sapone non è assolutamente morta. Petito entra in area attaccato da Camporesi. Lascia correre il direttore di gara tra le proteste locali. Marrone su punizione. Si arrende ai riflessi di Dedeo. Ma i verde-oro spingono con il collettivo. Crossa di Biase. Sponda di Piedimonte. Due difensori. e concretizza Mario Petito che rimette a posto il punteggio. Decima rete in campionato. Dodicesima in stagione. Pochissimo tempo per risultare. 60 secondi ed il Sambuceto è già in avanti con Selva Allegra che non sbaglia nulla. Gelsi in diagonale per rimettere la freccia del sorpasso. Questa volta l'acqua e sapone accusa la mazzata. È un colpo psicologico duro da incassare. Va da solo Selva Allegra. È un ira di Dio il numero 11. Ma Palena tiene a galla i suoi. È probabilmente questa parata da forza all'11 di casa. Petito battaglia e trova il varco per Evangelista. Dedeo è super ma sulla ribattuta Marrone viene atterrato. Calcio di rigore concesso. È uscito il rigorista di Biase. La responsabilità se la prende ancora. Mario Petito glaciale dal dischetto. 3 a 3. Partita al Cardiopalma che si avvia su un finale per nulla scritto. Nel recupero Marrone dialoga con Petito. Fa tutto bene il 10. Riflesso felino di Dedeo col piede. Salva il Sambuceto. Termina così la partita. Uno spot per il calcio abruzzese ed un punto a testa che non sconvolge i piani in classifica. Mister Delzotti, un rocambolesco 3 a 3. Partita bella da vedere ma anche difficile da commentare. Sì, è stata una bella partita. È giocata ottimamente da entrambe le squadre. Credo che l'Acqua e Sapone ha fatto la partita che doveva fare. e noi abbiamo provato a fare quello che dovevamo fare. È andata così e ci prendiamo questo punto su un campo difficilissimo. Io direi che abbiamo fatto l'ennesima prestazione buonissima. Per quanto riguarda il calcio giocato sono veramente orgoglioso dei ragazzi. Hanno fatto una partita pazzesca. contro una squadra forte che è venuta qua a giocare a calcio. La partita sicuramente in questo caso è stata molto divertente. Il lato arbitrale mi lascia veramente con Rammari con un'altra volta perché c'era un rigore clamoroso prima di quello nostro che tra l'altro è anche espulsione perché è un fallo da ultimo uomo. quindi Samuceta avrebbe dovuto giocare con una persona in meno per 30-40 minuti. Diciamo che non siamo veramente agevolati dai fattori esterni. I fattori interni li guardiamo noi perché poi abbiamo fatto anche degli errori difensivi importanti che vanno migliorati perché sennò le partite poi non le riesce a vincere. Così come secondo me andava fatto. Così come secondo me andava fatto.